Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, sono molto contenta sempre di visitarvi, di essere nel vostro ambiente, perché sinceramente è molto positiva, grazie mille per la discussione che offrite ai gente oggi mattina, grazie. Grazie a te perché ascoltiamo un po' la unifica, ad esempio, oggi che cosa ascolteremo? Allora, come avevo promesso la volta scorsa, sarà un blues francese di Patricia Kass, si chiamano Make-A-Moi, ho cambiato un altro look e canterò, diciamo, un uomo, una donna canta di un uomo in generale, quindi una canzone dedicata a un uomo stavolta, no, a un uomo però ai tutti uomini, perché, sì, uomini non possono stare senza le donne, che è il canzone, quindi descriviamo un uomo che non può stare senza una donna, quindi l'uomo più romantico, quello, sì, più romantico, sì, più manello, perché, ad esempio, lui gioca con me, cazzo, se lui gioca con me, lui sta giocando con il mio cuore, non posso pensare nulla, perché lo amo, ecco, sì, l'uomo più bravo a fare, no? Vieni là! Vieni là! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.